Sì, stanno bene, ma diciamo che le mie valutazioni domani non mi preoccupo tanto della formazione iniziale, ma nel gestire un po' quello che può accadere dopo. È ovvio che in campo abbiamo magari un campagnano che è la prima partita, non so se regge 90 minuti, non abbiamo probabilmente altri difensori, se non da adattare. Quindi diciamo che la scelta sugli 11 iniziali, soprattutto nel metà campo, cade anche un po' sul fatto di valutare quello che può succedere dopo. Abbiamo Mandragora che viene da due partite da 90 minuti, quindi bisogna vedere anche lui se riesce a reggere tutta la partita. Quindi devo fare un po' di valutazioni per vedere chi mi può tornare più utile dopo, anche per fare un ruolo che non gli compete, cioè un ruolo che non è il proprio. A loro gli manca anche Torregrossa, ogni tanto loro hanno queste giocate che sfruttano la sua fisicità e la velocità degli altri attaccanti che giocano a fianco a lui. Domani questo ovviamente non lo potranno fare perché non hanno tanti centimetri davanti, giocheranno più sul... Immagino che possano giocare più sfruttando un po' la velocità, quindi attaccando un po' più la profondità e per fare questo ovviamente devono crearsi la possibilità di avere spazio alle spalle dei nostri difensori. Quindi è una squadra molto solida, una squadra molto ben messa in campo, una squadra molto legata al risultato in senso positivo, nel senso che è una squadra molto compatta, ostica, dura da affrontarla perché la cosa che balza più all'occhio quando vedi le partite del Trapani è che dove c'è la palla, attorno a questa palla ci sono almeno sei giocatori. Quindi fanno molta densità e sarà una partita difficile. Cioè il gioco confusionario di Cosmi, insomma? No, 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 ma io guarda, io il mister ce l'ha avuto, lui ha un'esperienza alle spalle molto grande, molto importante, allenato anche a livelli più alti ed è un signor allenatore. Il come si raggiungono gli obiettivi, questo lo si può fare in maniere diverse, come lo fa lui lo fa benissimo, lo fa grande, l'ho dimostrato sul campo, quindi non mi permetto di commentare quelle che sono le idee di gioco di altri allenatori, ognuno raggiunge i propri obiettivi secondo quella che è la propria visione di calcio, ma lui è sicuramente un allenatore molto bravo.